pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa terza domenica di pasqua abbiamo il bellissimo episodio dei discepoli di emmaus e del cammino trasformativo che vivono da che erano tristi imprigionati nella loro lettura distorta dei fatti a che dopo l'incontro con gesù risorto ritornano indietro pieni di gioia lasciamoci dire allora qualcosa di prezioso per la nostra vita è la domenica mattina di pasqua questi due discepoli si stanno appunto allontanando da gerusalemme sono ancora vive nella loro memoria le immagini della passione della crocifissione di gesù e se ne vanno scossi scoraggiati e lungo il cammino discutono animatamente tra di loro non riescono a capire come sia stato possibile tutto ciò ad un tratto ecco avvicinarsi loro un viandante e gesù ma i loro occhi sono impediti a riconoscerlo sono catturati dal vederlo cioè sono talmente presi dai loro pensieri chiusi nella loro tristezza da non riuscire a riconoscerlo penso sia capitato a tutti noi un momento nel quale eravamo così tristi così presi dalla nostra lettura negativa dei fatti da non riuscire a vedere l'altro ad accogliere magari quella soluzione che era a portata di mano quella parola di vita che ci veniva offerta allora gesù fa loro una domanda ma cosa sono questi discorsi che fate tra voi potremmo dire qual è il problema e veniamo a scoprire qual è il motivo di tanta loro tristezza dicono quel gesù che fu profeta potente in parole e in opere noi speravamo che fosse lui a liberare israele ecco qual è il problema noi speravamo che fosse lui a liberare potentemente politicamente israele cioè loro si aspettavano altro sono delusi da ciò che è accaduto per loro la croce è un punto è soltanto storia di un fallimento leggono tutto negativamente sono così presi e così convinti dalla loro lettura dei fatti da non accogliere l'annuncio della pasqua infatti dicono ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti sono andate alla tomba l'hanno trovata vuota ci hanno detto di aver avuto una visione di angeli che hanno annunciato la risurrezione di gesù altri sono andati a vedere ed era effettivamente così avrebbero tutto per poter credere nella risurrezione ma non riescono ad accoglierlo vedete miei cari noi possiamo rivederci nei discepoli di emmaus quante volte affrontiamo momenti difficili delusioni momenti nei quali ci sembrava di avere la felicità a un passo e tutto è crollato ma soprattutto noi siamo i discepoli di emmaus quando ci ritroviamo a soffrire perché abbiamo assolutizzato le nostre aspettative e ci rinchiudiamo in una lettura negativa pessimistica della storia vediamo tutto storto e rimaniamo inchiodati lì quante persone anche dopo 20 30 40 anni sono rimaste inchiodate in una lettura negativa di alcuni avvenimenti magari dolorosi certo ma visti soltanto con una chiave mortifera e se le cose fossero andate diversamente se non mi fosse capitata questa difficoltà se non mi fossi ammalato se il vescovo non mi avesse spostato se il superiore non mi avesse trasferito se non so al lavoro mi avessero preso se le cose fossero andate come dicevo io allora vedete gesù dopo averli ascoltati cosa fa interviene con forza con fermezza stolti e lenti di cuore a credere nella parola dei profeti il cristo non doveva forse patire morire per poi risorgere vedete il signore cerca di scardinare questo modo di pensare perché possa passare la luce cioè i miei cari se vogliamo aprirci alla vita nuova di cristo la prima cosa è lasciarci mettere in discussione nel nostro modo di pensare e leggere la nostra storia guardate che non è scontato non basta andare in chiesa per essere sicuri che ciò avvenga io posso sentire tante belle parole ma lasciarmele scivolare addosso e rimanere sempre incastrato nei miei modi di pensare noi abbiamo bisogno di aprirci alla sapienza di dio alla sua opera che è altra che oltre i nostri modi di immaginare per noi uomini la croce è soltanto morte fallimento cristo nella sua infinita sapienza nel suo amore immenso ha saputo trasformarla in salvezza per tutti e quella che per noi è un punto in realtà una virgola una tappa di passaggio verso una pienezza ecco smetterla di assolutizzare la nostra lettura dei fatti e aprirci a una lettura più vera della realtà il signore aprì la loro mente all'intelligenza delle scritture e partendo da mosè dai profeti iniziò a spiegare loro tutto ciò che lo riguardava li aiuta a rileggere le cose secondo quella sapienza divina che ci è consegnata nelle sacre scritture inizia ad aiutare i discepoli a collegare i fusibili a mettere insieme i pezzi a leggere le cose secondo la prospettiva di dio e nella misura in cui lo facciamo e ci lasciamo parlare al cuore dal vangelo nella misura in cui ci apriamo anche a chi nel nome del signore può aiutarci spiritualmente ecco che pian piano se il nostro cuore è aperto inizia una lettura provvidenziale della storia e allora inizia a scoprire che la tua vita forse non è così brutta che dietro quella sofferenza si è nascosta una provvidenza che dietro questa difficoltà c'è un'occasione di santità che dietro quella tappa dolorosa della tua vita si è rivelata esserci una porta per entrare in una dimensione più profonda della vita dunque gesù lungo il cammino spiegò loro a partire da mosè dai profeti tutto quanto lo riguardava li aiuta a cogliere che in lui c'è il compimento di tutto che dunque quella croce non è fallimento ma appunto compimento del disegno di dio li aiuta a cogliere quel disegno nascosto nella trama del reale e man mano il cuore dei discepoli arde sì miei cari nella misura in cui ci lasciamo parlare al cuore da gesù meditando la sua parola partecipando all'eucaristia lasciandoci anche accompagnare spiritualmente tanto più la vita si riaccende di vita perché perché inizi a sentirti amato sai di non essere solo inizi a cogliere il senso di ciò che vivi e il senso per il quale vale la pena vivere e allora il cuore arde di un fuoco d'amore che si è alimentato nulla può spegnere e non solo eccoci all'ultimo passaggio gesù fa come se volesse andare oltre questo suscita il desiderio e anche l'umiltà dei discepoli che gli dicono resta con noi ormai si fa sera i discepoli percepiscono che è bello stare con quel pellegrino le parole del quale illuminano la presenza del quale conforta riscalda il cuore gesù entra per dimorare con loro e a tavola prese il pane rese grazie lo spezzò e lo diede loro gesti semplici di una cena comune gesti profondi che richiamano l'ultima cena l'istituzione dell'eucaristia e infatti i discepoli ricordano e lo riconoscono e lui sparisce dalla loro vista ormai l'hanno incontrato ormai sanno dove lo possono incontrare proprio lì nello spezzare il pane nel celebrare l'eucaristia sì miei cari qui sotto abbiamo proprio la grammatica della liturgia una prima fase penitenziale dove uno si lascia mettere in discussione l'ascolto della parola la frazione del pane dunque l'incontro con gesù vivo e tutto questo vissuto profondamente porta ad un diverso modo di pensare ad un nuovo modo di sentire e poi un diverso modo di agire infatti i discepoli tornano indietro tornano a gerusalemme e pieni di gioia annunciano di aver incontrato gesù e chiaramente simbolo di una conversione del proprio cammino esistenziale come a dire che ogni vero incontro con gesù non ci lascia mai come prima muove e spinge al cambiamento e ci chiede di ridirigere i nostri passi sulla via del vero bene cari fratelli e sorelle che il signore ci doni la grazia di vivere questo cammino trasformativo specialmente ad ogni celebrazione eucaristica nell'arco di tutta la nostra vita perché illuminati dalla sua parola nutriti dalla sua presenza confortati dal camminare con la comunità credente possiamo imparare a vedere a sentire e ad agire secondo il suo cuore e mi piace concludere con quel racconto bellissimo famoso di quell'uomo che sognò di camminare sulla spiaggia con gesù nel cielo scorrevano le immagini della sua vita e nel voltarsi si accorse che per ogni giorno della sua vita vi erano sulla sabbia due orme una era di gesù e una era la sua ma in concomitanza con i giorni più difficili con le scene più dolorose vi era soltanto un'orma e allora alla fine del cammino chiese a gesù signore avevi promesso di non abbandonarmi mai allora perché in quei giorni tanto difficili vi era soltanto un'orma e la risposta bellissima di gesù sappi che in quei giorni io non ti ho lasciato solo in quei giorni io ti ho preso in braccio che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti